Salve Eurogamers e benvenuti in questo video su Final Fantasy XV, titolo sviluppato da Square Enix, presentato per la prima volta ormai nel lontano E3 del 2016, che vedrà finalmente la luce nei prossimi mesi, dopo l'ennesimo rinvio annunciato recentemente. Tabata in persona però, ha affermato che questa decisione è stata presa per permettere a tutti i giocatori di poter giocare gli stessi contenuti al lancio, senza dover scaricare corpose patch del day one, ma di trovarsene direttamente sul disco. Tornando un attimo al presente però, siamo stati invitati da Coach Media nei loro uffici nei pressi di Milano, per poter partecipare a un hands-on di ben 4 ore di una nuova demo del titolo su PlayStation 4. Per la precisione, la terza demo che abbiamo avuto il piacere di provare, nonché la più completa essendo quella più vicina alla versione finale del gioco. Partendo dalle basi, il protagonista di questo nuovo action RPG open world sarà Noctis Lucis Silum, principe del regno di Lucis e successore e figlio di Regis Lucis Silum, centotredicesimo. Nonché guardiano del cristallo, i suoi compagni d'avventura saranno i suoi tre amici Igniscentia, Promptor Gentum e Gladio Misitia, oltre ai vari personaggi secondari come Sindiaurum, Sid e Corleonis, la sua guardia del corpo. Quando inizierete la vostra avventura potrete scegliere il livello di difficoltà, tra standard o facile, le uniche due difficoltà al momento conosciute. Il vostro primo compito sarà quello di raggiungere Altissia, dove dovrete incontrarvi con l'Aufreia Nox Flauret, la principessa del regno di tenebre e amica d'infanzia del protagonista. Questa volta per muoverci avremo a nostra disposizione anche un'automobile, la Regalia, che sfortunatamente ci lascerà poco dopo l'inizio del nostro viaggio, costringendoci a fermarci in un'area di sosta. Qui conosceremo il meccanico, Cindy, che ci chiederà dei favori in cambio di denaro, e il gestore del ristorante lì vicino, che oltre alla possibilità di ordinare del cibo, ci darà anche delle informazioni sulla zona, sbloccando così tutti i punti di interesse come parcheggi, ristoranti e via dicendo. Successivamente seguendo le indicazioni della bionda tuttofare, ci avventureremo in un'area desertica, dove troveremo i nostri primi nemici e dove verremo introdotti al nuovo sistema di combattimento. Potremo attaccare usando una delle quattro armi equipaggiabili, semplicemente premendo un tasto, mentre mantenendo la pressione effettueremo una catena di colpi che consumerà la nostra stamina. Ogni arma inoltre avrà il proprio peso e consumo di stamina, e quando questo valore raggiungerà lo zero, potremo stento camminare. La barra della stamina si riempirà con il passare del tempo, tempo in cui potremo prendere il controllo di uno dei nostri compagni ed utilizzare un potente attacco, che oltre a richiederci una distanza da cui poterlo utilizzare, richiederà anche un certo tempismo nel premere il tasto di attacco quando un'icona apparirà sullo schermo. Se il colpo andrà a segno, Noctis potrà concatenarsi all'attacco, infliggendo ulteriori danni e ricaricando parte della stamina. Molto importante è anche l'uso del teletrasporto durante i combattimenti, sia in fase offensiva che difensiva, perché ci permetterà di eseguire attacchi a sorpresa su nemici ignari della nostra presenza, o ci darà la possibilità di allontanarci dai nostri avversari per poter rifiutare e studiare un piano d'attacco. Bisognerà però tenere sotto controllo la nostra stamina, in quanto questa nostra abilità la prosciugherà molto velocemente. Le magie dovremo assimilarle presso sorgenti o contenitori appositi, similmente a quanto accadeva in Final Fantasy VIII, con la differenza però che verranno trovate in forma grezza, e sarà necessario distillarle nell'apposito menu utilizzando i giusti elementi nelle giuste quantità. Ad esempio, distillando 10 unità di fuoco, otterremo una semplice fire, mentre aggiungendo la nostra ricetta a una preziosa reliquia otterremo un incantesimo ben più potente. Al termine della battaglia otterremo exp ed eventualmente qualche oggetto o accessorio, ma soltanto a fine capitolo o prima di riposarci vedremo il level up. E proprio su quest'ultimo punto potremo o decidere di sborsare dei gil e dormire in hotel per guadagnare ex per ricaricare la nostra vita, o dormire in una tenda e ammirare Ignis, la nostra chef, che ci preparerà dei piatti in grado di migliorare le statistiche del party. Gli ingredienti potranno essere trovati o durante le fasi di esplorazione o come ricompensa dopo una battaglia vinta. L'evoluzione dei nostri personaggi avverrà tramite l'Ascension System, formato da griglie simili alla sferografia di Final Fantasy X. In parole povere, per ottenere nuove abilità dovremo spendere i punti guadagnati progredendo nel corso della nostra avventura. Come accennato qualche minuto fa poi, per muoverci avremo a disposizione la regalia, automobile che potremo guidare sia manualmente che affidandone il comando a Gladio, che però si rifiuterà di guidare durante la notte, per la paura di imbattersi nei daemon. I comandi risultano fin troppo rigidi e le aree in cui potremo accedere limitate, potremo però fermarci quando vorremo per prendere parte a una quest secondaria. Risulta invece comoda la funzionalità di pilota automatico, ci basterà scegliere la nostra destinazione e potremo goderci per tutto il viaggio le chiacchere dei nostri compagni. E proprio riguardo ai dialoghi, saranno spesso presenti anche scelte testuali multiple, similmente a quanto accade nei titoli Telltale, anche se queste decisioni non modificheranno in alcun modo il corso della storia. Analizziamo ora il comparto tecnico, la componente che ci ha meno convinto durante l'hands-on. Ribadendo nuovamente che era pur sempre una build di prova, quindi non la versione definitiva, è opportuno segnalare la presenza di diversi bug, uno dei quali ci ha addirittura costretto di riavviare la console, e la presenza di diversi rallentamenti. Alcune animazioni sono completamente da rivedere, e c'è la necessità di una corposa pulizia grafica. Raggiungere il livello qualitativo di quanto mostrato nei vari trailer probabilmente sarà impossibile, è negabile però il lavoro svolto dal team di Tabata nel creare un mondo vivo e con un livello di dettaglio tanto elevato. E per quanto questo nuovo Final Fantasy si discosti dai capitoli precedenti coi combattimenti a turni, non mancheranno elementi classici della serie come i chocobo, le magie, gli oggetti e il bestiario. In certi momenti abbiamo addirittura riassaporato le atmosfere europee di Final Fantasy 8, ma sotto una luce diversa. La colonna sonora si è già dimostrata all'altezza delle aspettative, raggiungendo il livello di quella del sesto e settimo capitolo. Molto interessante è inoltre la possibilità di riascoltare alcuni dei brani più famosi della saga dalla radio delle regalia. In conclusione, le nostre impressioni su questa terza demo sono più che positive. Dissipati tutti i dubbi relativi al gameplay, non resta che aspettare l'uscita il 27 novembre, sperando di poter giocare un prodotto completo anche dal punto di vista tecnico. Dunque, per quanto riguarda quest'anteprima di Final Fantasy XV è tutto. Vi ringrazio per la vostra attenzione, vi invito a seguire Eurogamer.it per future novità relative al titolo di Square Enix e vi auguro una buona giornata. Ciao a tutti!